good morning juventus o forse dovrei dire bad morning juventini due anni fa nel 2020 abbiamo dovuto assistere a un lockdown forzato di due mesi causa una malattia una pandemia che aveva colpito tutto il mondo ce ne siamo fatti una ragione perché c'era una causa di forza maggiore problematiche serie perché quando scoppiò ci furono tanti disastri tante persone che morirono insomma una situazione d'emergenza grave che giustificò questo lockdown e il calcio si fermò superata la paura diciamo pian pianino si sta uscendo da questa brutta situazione il calcio ha tornato ad essere la passione di tutti gli italiani io mi riferisco soprattutto a noi italiani chiaramente e soprattutto a noi juventini e anche a coloro che seguono il mio canale che non sono juventini ovviamente il massimo rispetto per loro e mi fa un immenso piacere purtroppo purtroppo quando tu non te lo aspetti ti creano un lockdown artificioso o artificiale che dir si voglia ebbene sì ebbene sì avete visto il titolo di questo good morning sette settimane di lockdown ebbene sì noi per sette settimane io e voi non potremo godere arrabbiarci litigare discutere della juventus perché quei due brutti ceffi che hanno che ho messo in copertina perché sono due brutti ceffi che pensano soltanto ai soldi e allora alla loro vanagloria ovvero ceffering e alche lafi ti hanno piazzato nel bel mezzo della stagione diciamo più accogliente dell'anno ovvero novembre e dicembre mesi in cui c'è freddo e quindi si sta volentieri in casa chi non va allo stadio a vedere le partite magari con gli amici ci si organizza una sera per mangiare la pizza poi si guarda la partita oppure magari chi di voi viene a vedere la reaction con me con francesco con ludovico con angelo e invece questi qua che cosa hanno fatto t'hanno piazzato un mondiale in catar e come se non bastasse non soltanto è un periodo allucinante assurdo che interrompe nel bel mezzo quasi nel bel mezzo un campionato che si sta facendo interessante visto gli ultimi risultati visto che la juventus sta uscendo dal pantano ma oltretutto manca anche l'italia e quindi noi italiani non soltanto juventini noi italiani in senso più esteso ce ne sbatteremo bellamente i maroni di questo mondiale è chiaro io guarderò delle partite perché mi piace il calcio anche voi molti di voi guarderanno delle partite perché mi piace il calcio ma l'italiano medio di cui faccio parte anch'io no cosa volete che gli importi se vince l'argentina se vince la polonia se vince la francia se vince la spagna se vince l'inghilterra anzi ci sarà molti italiani che ti faranno contro non vorrei mai che vincesse quello non vorrei mai che vincesse quell'altro il problema è che chi come me fa per mestiere lo youtuber adesso oltre al fotoreporter ma il fotoreporter questa è la stagione morta da sempre facevo qualche viaggio diciamo nel periodo natalizio in zone magari particolari innevate quindi in ogni caso per me è sempre stato un periodo abbastanza morto anche di relax questo mi ne manca anche il calcio che è la mia fonte diciamo primaria di di lavoro non di guadagni di lavoro cioè io alla mattina mi sveglio faccio il good morning poi faccio dei video faccio delle live chiaro ne farò ci mancherebbe altro il good morning non ve lo farò mai mancare state tranquilli perché ci tengo ma gli argomenti saranno forzati è inevitabile magari ci sarà quel good morning che non vi aspettate che vi piacerà moltissimo e poi ci sarà quel good morning che invece non me ne fregarà un tubo ma come giusto che sia perché magari parlerò delle plus valenze e vi interesserà magari parlerò della superlega e vi interesserà magari vi parlerò del possibile esonero o continuazione del contratto di allegri e magari vi piacerà però poi magari vi parlerò di un argomento che non ve ne potrà fregare di meno resta il fatto che per sette settimane e sono tante signori perché quando si interrompe il campionato giugno non si fa nulla però si incomincia a parlare di mercato ma già al 10 di luglio le rose vanno in ritiro e quindi si segue ritiro c'è il nuovo giocatore che arriva intanto continua il mercato e poi ci si prepara mentalmente qui invece non succede nulla perché il mercato è chiuso perché si riapre ai primi di gennaio quando poi tornerà anche il campionato dobbiamo starcene un mese e mezzo abbondante perché era era ieri il 13 di novembre no oggi 14 tra l'altro un bacio alla mia mamma che avrebbe compiuto gli anni oggi avrebbe compiuto 84 anni la mia mamma oggi se ci fosse ancora purtroppo non c'è più e ci docca stare qua fino al 3 di gennaio quando io farò la conferenza stampa pre partita il tremonese juventus ma di fatto fino al 4 di gennaio per attendere che la juventus torni in campo da qui allora accadranno tante cose succederanno tante cose speriamo che i giocatori che non stavano bene si ripiglino tutti che magari arrivino le notizie sotto natale che può tornare a giocare con la juventus già a gennaio che chiesa sia guarito completamente e che non si facciano male ovviamente tutti i giocatori convocati nei nazionali che parteciperanno a questo schifo di mondiale del Qatar perché lo chiamo schifo lo chiamo schifo perché è stato messo in questo periodo voi direte max ma non è possibile fare i mondiali in estate in Qatar perché altrimenti la gente morirebbe allora non si fa allora il mondiale in Qatar non si fa secondo voi faranno un giorno il mondiale in antartide nel polo sud non credo proprio meno 70 gradi quando c'è freddo quando c'è caldo ok secondo voi faranno il mondiale al polo nord non credo perché ci sono meno 25 quando c'è caldo quindi di cosa stiamo parlando ma di cosa stiamo parlando ci sono situazioni geografiche e particolari che non permettono il mondiale molto semplice è inutile che per il business per i soldi e per non si sa che cosa oltre a tutti i morti che ci sono stati nella costruzione degli stadi che poi signori finito il mondiale che dura un mese e mezzo chi ci giocherà in quegli stadi i cammelli i serpenti i beduini e chi altro chissà forse qualche scorpione del deserto per cui veramente veramente triste per me è veramente triste questo giorno perché è l'inizio di un periodo buio allora io nel good morning juventus a partire da domani proprio per spingere anche argomenti che trattavo prima di iniziare a parlare solo di juventus nel maggio del 2020 proprio dopo il lockdown di cui ho parlato perché fino a prima parlavo di tutto e poco di juventus presenterò un qualche cosa che poi verrà diciamo trattato in maniera approfondita nei video vi presenterò un fumetto vi presenterò un libro vi presenterò un videogame vi presenterò una sali tv vi presenterò un film così come facevo fino un anno fa con i good morning juventus mi sembra giusto perché così almeno cercherò di tenere coinvolta la platea del mio canale perché sinceramente lo ribadisco sette settimane di lockdown dal calcio della nostra juventus e anche dall'italia perché no sono troppe secondo me sono troppe e vi assicuro che a molti di voi il calcio già dalla settimana prossima inizierà a mancare perché di portogallo usa di polonia argentina di brasile francia e di inghilterra germania non frega un cazzo a nessuno in italia secondo me bad morning juventus